Ciao, sono Marco Doria e oggi ti racconterò la vita straordinaria di Nansol Mandela. È un leader carismatico ed è stato anche simbolo di lotta per la giustizia sociale e per i diritti umani, ovviamente. Ha lottato per la parità razziale e contro l'apartheid, ovvero l'atroce sistema di segregazione razziale che avveniva in Sudafrica. Ed è stato anche il primo presidente nero del Sudafrica eletto nel 1994. Era un figlio di un capotribù e ha dedicato la sua vita alla causa della libertà e dell'eguaglianza. Ha trascorso ben 27 anni in prigione senza però in nessun momento perdere la ferma volontà di rendere il mondo un posto senza segregazione razziale. Ed è ancora oggi riconosciuto come un'icona universale di resistenza pacifica, perdono, tolleranza e saggezza. La sua leadership ha ispirato l'intero mondo, questo è innegabile, e ha lasciato un'eredità a duratura di riconciliazione e di speranza. Una delle sue frasi più celebri Ho imparato che il coraggio non è l'assenza di paura, ma il trionfo su di essa. L'impavido non è colui che prova paura, ma colui che diviene padrone della propria paura. Ma ora, come al solito, ripercorriamo la sua vita, così intensa e complessa, e scopriamo perché è così straordinaria. 18 luglio 1918 Khoslashla Mandela nasce nel piccolo villaggio di Mevzo, nella regione del Transkei in Sudafrica. È figlio di un capo tribale della comunità locale, che è in carica dal 1915, ed è un consigliere reale. Il padre ha quattro mogli, Mandela è il figlio della terza. Quindi da bambino cresce in un ambiente aristocratico, ricordando che il papà è appunto il primo consigliere del re. E frequenta quindi le migliori scuole. Va tutto bene fino al college, dove si espone ovviamente al multiculturalismo. Diamo una curiosità. Il suo vero nome, Roy Shlashla, è difficile da pronunciare, quindi, come era comune in quei tempi, viene ribattezzato Nelson. Il suo vero nome, però, significa tirare il ramo di un albero o causare fastidi, essere un'attaccabrighe. Quindi il nome non è a caso, diciamo, perché lui è stato così fin dalla nascita, era un segno del destino. E invece Nelson è stato un nome a caso che gli è stato dato dai suoi compagni. Ed è proprio in questo contesto che sperimenta le prime ingiustizie sociali e razziali, quello che poi lo porteranno a guidare la lotta per la libertà e l'eguaglianza. Mentre studia, il re lo richiama, gli vuole imporre un matrimonio combinato. Ricordiamo che lui è un aristocratico. E quindi è obbligato a sposare una ragazza scelta dal capo della tribù. Mandela, però, non può accettare. Se lo fa, onora sì la sua tribù d'origine, ma tradisce i suoi ideali e rinnega se stesso. Quindi sceglie la via della fuga e si dirige verso Johannesburg. Ecco, però, cerchiamo di capire com'era Johannesburg in quel periodo. Cito testualmente, i neri sono nati con il colore sbagliato della pelle. Questa era un'idea comune che all'epoca, in quel contesto, veniva discussa. E quindi le persone di colore venivano maltrattate, escluse e, ovviamente, imprigionate ingiustamente come dissidenti. Anche solo se, per dire, si osassero ad alzare il capo. L'apartheid, il sistema nascente di segregazione razziale, non dà tregua ai neri, che vogliono, ovviamente, far valere anche i propri diritti umani. E per questo, proprio, Nelson Mandela è sempre più coinvolto nell'attivismo politico contro questo sistema apartheid, che perpetua la segregazione razziale e l'oppressione. Una volta laureato, si unisce al congresso nazionale africano, l'ANCH, e diventa anche la figura chiave dell'organizzazione. L'organizzazione si ispira all'azione non violenta di Gandhi. L'ANCH, o anche, è il partito antirazzista che unisce i neri del Sudafrica, che è nato nel 1912 e che sostiene i diritti della popolazione nera. Nel 1948, il Partito Nazionale vince le elezioni. Il Partito Nazionale è il partito formato dai boeri, che sono i bianchi, di lingua africans, discendenti dai contadini coloni nord-europei. I boeri sono quelli, in sostanza, che hanno subito passivamente il dominio inglese. E purtroppo, in questo periodo, inizia anche la promulgazione delle prime leggi razziali e del sistema apartheid, che prende sempre più piede. L'idea comune è che i neri sono inferiori, quindi non possono frequentare luoghi pubblici in cui vanno i bianchi, gli spazi sono separati, i neri non possono sposare i bianchi e non possono nemmeno salire sui mezzi pubblici. Pensate un po' che non possono nemmeno entrare nelle città se non in possesso di un lavoro. Ma il lavoro a loro è anche bandito, così la rappresentanza sindacale. Il sistema è talmente atroce e assurdo che arriva persino a promulgare una legge che vieta che i neri facciano sesso con i bianchi. E in Sudafrica, inoltre, non approva nemmeno la dichiarazione dei diritti umani, quella universale, ovviamente, proprio perché non ammette l'uguaglianza senza distinzione di razza. Nel frattempo Nelson Mandela rimane attivo. Nel 52 l'ANC lancia la defiance campaign, ovvero la campagna di sfida contro le leggi ingiuste. In sostanza si cercava di fare qualcosa. E sempre Nelson Mandela apre, insieme a un collega, il primo studio di avvocati neri che difendono i diritti dei neri, altrimenti ovviamente privati di assistenza legale. Il primo arresto di Nelson avviene nel 1956, che insieme ad altri leader dell'ANC viene processato per alto tradimento. sarà il primo grande arresto. 150 membri del congresso vengono processati per tradimento. Per fortuna questa volta il processo si concluderà senza condanne, ma tanto sappiamo che non è finita qua. Nel 1960 avviene il massacro di Sherpville, nel quale la polizia spara a fuoco e uccide circa 70 dimostranti, che sono tantissimi, che stavano ovviamente lottando pacificamente contro l'introduzione del lascia passare, ovvero il pass che doveva servire ai neri per entrare nelle zone dei bianchi. La situazione è insostenibile, bisogna fare qualcosa di un po' più decisivo. E quindi nel 1960 Mandela e altri del congresso approvano la lotta armata. Quindi Mandela va in Inghilterra e in altri paesi africani per ottenere degli aiuti, per ottenere del denaro. Ma quando rientra in Sudafrica viene arrestato e condannato a 5 anni di carcere per aver lasciato illegalmente il paese. Ovviamente è un pretesto per fermarlo. Nel 1964 viene processato e viene ovviamente condannato a una pena esagerata, ovvero all'ergastolo. L'accusa è di cospirazione, sovversione contro il sistema e addirittura lo accusano di coinvolgimento nella lotta armata. Descrivendolo però come un guerriero, un violento, un sabotatore e di voler instaurare in Sudafrica un regime comunista. Incredibile ovviamente è falso per uno che come lui usa sempre diciamo l'arma del dialogo. Però questo è quello che succede nel regime dell'apartheid. La condanna al carcere a vita segna un momento chiave nella sua lotta contro l'oppressione. Non appena rinchiuso, lui giura a se stesso che avrebbe fatto di tutto perché ciò che stava accadendo a lui non sarebbe accaduto a nessun altro del suo popolo. Lui si affida alla fede proprio per cancellare la rabbia per i suoi aguzzini e prepararsi a liberare il suo popolo con la sola arma della lotta pacifica. Lui trascorrerà attenzione ben 27 anni di prigionia e sarà un periodo durissimo perché benché lui sia un prigioniero politico non ha nessuna agevolazione anzi è costretto all'isolamento ai lavori forzati in condizioni difficilissime sta malissimo insomma. Nel 1981 quindi decide all'età di 63 anni di fare uno sciopero del cibo. quindi Mandela e altri prigionieri smettono di cibarsi per lungo tempo quindi è una protesta a tutti gli effetti contro il trattamento che stavano ricevendo in carcere e chiedono che queste condizioni siano migliorate. Mandela non perde comunque la sua voglia di liberare il suo popolo e dal carcere in queste condizioni pronuncia quello che divenne poi il suo motto più potente della paura per l'inumana vita della prigione e la rabbia per le terribili condizioni nelle quali il mio popolo è soggetto fuori dalle prigioni. Ovviamente questa condizione anche per il Sudafrica non poteva rimanere tale. A metà degli anni 80 chi governava comincia a dire beh non possiamo reggere ai cambiamenti mondiali cioè non in questo modo dobbiamo fare qualcosa. Infatti nel 1985 il presidente incarica Bota per evitare scandali diciamo per avere un'opinione pubblica mondiale migliore gli offre la scarcerazione solo se rinnega la lotta armata contro l'apartheid. Mandela però rifiuta risponde che prima deve cessare la loro di lotta ovvero la violenza dell'apartheid. Resta quindi in carcere però questa storia diventa virale fa il giro del mondo. Tutti ora lo riconoscono come il leader della lotta pacifica contro la discriminazione razziale in Africa. Si cercano altri modi. Nell'89 Bota invita Mandela a casa sua si parlano in africaner e lo convince che la situazione non può proseguire in questo modo devono fare qualcosa. In quello stesso agosto Bota a un malore e cede la presidenza a Frederick de Klerk che è una persona molto più possibilista per fare questa transazione verso una democrazia. E finalmente l'11 febbraio del 1990 all'età di 72 anni e ben dopo 27 anni di carcere Nelson Mandela è finalmente libero. Viene accolto in grande festa da una folla composta da tutte le etnie. L'Africa sta proprio cambiando. Nel 1991 all'età di 73 anni Mandela diventa segretario generale dell'ANC e sono anni però di violenze terribili e si cerca di evitare la guerra civile anche perché i neri del congresso si potevano vendicare ovviamente degli ingiustizie subite. In questo caso Mandela sarà il punto di riferimento. Quindi fa i conti con violenze dei bianchi estremisti e anche con la fazione più violenta del congresso. Ed è proprio per questo che nel 93 vince il premio Nobel per la pace. Ma lo vince insieme a Frederick de Klerk l'ex presidente sudafricano che ha fatto di tutto diciamo per porre fine all'apartheid. Nel 94 si tennero le prime elezioni democratiche a livello nazionale e Mandela sarà il primo presidente nero a capo del governo di questo paese. Nel 99 all'età di 81 anni dopo un solo anno di mandato presidenziale Mandela decide che non continuerà con la politica non continuerà con la presidenza. Infatti si ritira e vuole che siano i giovani a proseguire la storia. Lui il suo l'ha fatto. Il 5 dicembre 2013 all'età di 95 anni Nelson Mandela muore a Johannesburg in Sudafrica. Nelson Mandela politico avvocato e rivoluzionario un simbolo di resistenza perdono e riconciliazione. Ha cambiato effettivamente la storia del Sudafrica ma anche del mondo intero. Ha creduto nell'umanità intera e nella lotta contro l'ingiustizia e nell'impegno per la costruzione di un paese più equo e più inclusivo. Cosa ci portiamo a casa da questa storia? La sua vita ragazzi è un esempio straordinario di leadership silenziosa e di dedizione alla causa dell'eguaglianza ma anche alla dedizione dell'unità e della lotta pacifica per i diritti umani. La sua eredità continua a ispirare azioni di giustizia e libertà ovunque. Se questo video ti è piaciuto mi raccomando solito commento solito like e ci vediamo al prossimo video. e ci vediamo Grazie a tutti.